8 marzo, giornata della donna e anteprima nazionale qui a Monopoli e Polignano per il Sud Estival. Accanto a me Gianfilippo Pedote, produttore del film e Alina Marazzi, regista del film Tutto Parla di Te. Prima domanda a Gianfilippo Pedote, produttore. Avventura, nuova avventura nel cinema come produttore accanto ad Alina. Qual è stata la differenza questa volta? Un film più complesso, un tempo in cui si è sviluppato il lavoro decisamente più lungo e sicuramente una scommessa più difficile e anche infinitamente più interessante. Alina, ingredienti del film dal punto di vista tematico, non del linguaggio delle immagini che come al solito poi è molto personale, molto personalizzato. Tu documentarista non hai abbandonato quella che è la connotazione di questo film, cioè l'utilizzazione in modo strategico e narrativo di pezzi di documentari, in particolare molto belli in superotto in bianco e nero. Ma la domanda che invece ti faccio dal punto di vista dei contenuti è legata a degli ingredienti. Ne abbiamo individuati due, la memoria e l'equilibrio. Ci mettiamo anche un terzo, la ricerca. È un film che racconta di un percorso che è quello che una madre deve intraprendere appunto quando nasce un bambino. E quindi è un percorso nuovo, un percorso che porta allo sviluppo di una relazione, di una relazione con il bambino. È in questo senso una ricerca. Dal mio punto di vista è stata una ricerca che è andata a intercettare tante testimonianze di persone diverse, di donne che hanno portato la loro testimonianza anche nel film e anche la scoperta di tante realtà che esistono sul territorio a sostegno della maternità. E quindi in qualche modo il film racconta questo, racconta che attraverso la condivisione e la parola si possono superare dei momenti di crisi e di difficoltà. Alina Marazzi e Gianfilippo Pedote al Sud Festival, grazie di essere qui e chiaramente adesso andiamo a vedere il film.